E' sempre il campo che alla fine dici sei soddisfatto, sono soddisfatti in parte e in parte dico che si può sempre fare meglio, però non dipende solo, dipende anche dalla forza che hai e come puoi muovere certe cose. Noi avevamo dei giocatori qui che non giocavano, non trovavano spazio, non trovavano il minutaggio e hanno chiesto di essere ceduti e li abbiamo contentati, presso poco li abbiamo contentati tutti, erano qui 5-6 giovani, che in minuti fate quasi zero. Cercavamo determinati ruoli, il mister specialmente nel suo gioco che voi conoscete come gioca e abbiamo preso due più uno, un terzo giocatore, per fare questa rosa di 24-25 giocatori con tre portieri. E' sempre corta la rosa innanzitutto. Noi prima eravamo i 28 giocatori, 28 giocatori con due giovani aggregati e leggevo, reggevo sempre di subito che leggevo che eravamo una rosa da sfoltire. Oggi siamo 25 giocatori con tre portieri, ci siamo dimenticati che Guilfi è un nostro giocatore, è un giocatore che fa copia nella faccia sinistra con Fassi che può fare sia a destra che a sinistra.